salve oggi parliamo degli idruri gli idruri sono dei composti binari costituiti da idrogeno legato a un metallo oppure idrogeno legato a un non metallo nel caso in cui l'idrogeno sia legato a un metallo esso assume stato ossidativo pari a meno uno nel caso invece in cui l'idrogeno sia legato a un non metallo assume uno stato di ossidazione pari a più uno quando la differenza di elettronegatività è significativa tra l'idrogeno e il metallo si andranno a generare dei legami di natura ionica quindi tipici del gruppo 1a 2a nel caso invece in cui l'idrogeno si andrà a legare dei metalli del gruppo p quindi più affamati di elettroni per completare il loro otetto avrà e si genereranno dei legami di tipo covalente una importante regola è questa cioè quando noi andiamo a dare un nome a un idruro e il metallo che è legato all'idrogeno presenta più stati di ossidazione dobbiamo andare a inserire il suffisso oso per l'idruro con massima con minore stato di ossidazione ico con quello di massima stato di ossidazione di ossidativo prendiamo immediatamente un composto il sodio il sodio stato di ossidazione sempre più uno l'idrogeno meno uno quindi affinché quindi la somma in questo caso del numero di ossidazione è zero quindi come verrà chiamato verrà chiamato idruro di sodio sia nella nomenclatura iupac che in quella tradizionale in questa formula schematica generica io vi ho inserito il metallo sopra il suo stato di ossidazione che se dovesse essere maggiore di uno deve essere riportato quindi come pedice all'idrogeno analizziamo un altro composto per esempio il calcio che ha sempre stato ossidativo più due l'idrogeno meno uno quindi inseriremo sotto l'idrogeno due in modo tale che la somma algebrica sia pari a zero in questo caso il composto come verrà chiamato verrà chiamato idruro di calcio nella nomenclatura tradizionale mentre in quella iupac verrà chiamata come bi idruro di calcio ora esaminiamo un elemento che presenta due stati di ossidazione il rame che può avere stato di ossidazione più uno è stato di ossidazione più due in questo caso dovremmo nella nomenclatura tradizionale introdurre il suffisso oso ed ico quindi nel primo caso l'idrogeno è meno uno quindi somma algebrica zero come lo chiameremo in nomenclatura tradizionale lo chiameremo idruro rame oso mentre analizzando il rame con stato ossidativo più due dovremmo andare a inserire il pedice due affinché la somma sia zero in questo caso come si chiamerà nella nomenclatura tradizionale si chiamerà idruro rameico nella nomenclatura iupac verrà chiamato idruro bi idruro di rame altro esempio il ferro che è stato ossidativo più due è stato ossidativo più 3 anche qui il discorso è analogo a quello fatto con rame e quindi inseriremo un 2 sul primo sul ferro con stato di ossidazione più 2 e un 3 col ferro con stato di ossidazione più 3 quindi come verranno chiamati questi composti in nomenclatura tradizionale verrà chiamato idruro ferroso in quella iupac bi idruro di ferro stesso discorso per il ferro con stato di ossidazione 3 nella tradizionale verrà chiamato come idruro ferrico mentre in quella iupac verrà chiamato tri idruro di ferro ora facciamo un esempio di un idruro con legame tipicamente ionico e covalente ed è quello relativo al boro il boro presenta stato di ossidazione più 3 quindi anche qui per quanto riguarda quello che è stato detto prima andremo inserire un 3 sotto l'idrogeno quindi il composto verrà chiamato come idruro di boro nella nomenclatura tradizionale mentre in quella iupac verrà chiamato come tri idruro di boro ora vediamo cosa accade quando l'idrogeno si lega a dei non metalli in questo caso è abbastanza tipico i non metalli presenti nel blocco p l'idrogeno assume valore più 1 in quanto meno elettronegativo e anche qui vige la regola di andare inserire sotto l'idrogeno lo stato ossidativo del non metallo facciamo alcuni esempi il classico esempio è l'ammoniaca in questo caso l'idrogeno ha stato di ossidazione più 1 l'ammoniaca meno 3 e quindi verrà chiamata nella nomenclatura tradizionale ammoniaca in quella iupac invece tri idruro di azoto altro esempio quando l'idrogeno si lega al carbonio anche qui in questo caso l'idrogeno valore più 1 il carbonio meno 4 come verrà chiamato in nomenclatura tradizionale metano il classico nome mentre in quella iupac verrà chiamato come tetra idruro di carbonio altro esempio che andiamo a fare quando l'idrogeno si lega al fosforo in questo caso l'idrogeno ha quindi stato di ossidazione più 1 il fosforo meno 3 pedice 3 in nomenclatura tradizionale verrà chiamato fosfina mentre in nomenclatura iupac tri idruro di fosforo altro esempio il silicio il silicio quindi al pari del metano avrà stato di ossidazione meno 4 l'idrogeno più 1 e quindi somma algebrica pari a 0 come lo chiameremo lo chiameremo nella nomenclatura tradizionale il termine di silano in quella iupac invece tetra idruro di silicio un'ultima notazione noi abbiamo sempre detto che viene inserito prima nella formula l'elemento meno elettronegativo in questo caso in questi casi sono un'eccezione in quanto mantengono ancora una la vecchia e classica diciamo nomenclatura legata diciamo a quella che era tradizionale ho terminato la lezione se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale oppure schiacciate un like